Questi lavori stanno creando dei disagi, stanno creando gli potenziali danni. Quornier, siamo qui alla chiesa della Santissima Trinità con il vice sindaco di Città Metropolitana Jacopo Suppo, che ha incontrato questa sera la cittadinanza quorniatese in merito alla situazione del Ponte dell'Orco, chiuso ormai da metà di ottobre. Sì, abbiamo voluto organizzare questa serata insieme all'amministrazione comunale dopo la proroga dell'ordinanza di chiusura del Ponte per aggiornare un pochettino i cittadini perché sappiamo bene che un cantiere così importante, un'opera pubblica così importante comunque ha sempre delle ripercussioni che possono essere negative nei confronti dei cittadini, dei commercianti, insomma delle utenze in generale che usufruiscono di questo servizio. Quindi ci sembrava giusto venire a Quornier e spiegare i motivi di questo prolungamento della chiusura del Ponte che appunto doveva essere aperto a fine marzo, sarà aperto invece per la metà di maggio. Un'iniziativa importante cofinanziata da Regione per 300 mila euro e da Città Metropolitana per altri 80 mila euro, una passerella pedonale attesa da oltre 20 anni che nella sua fase di realizzazione ha avuto modo anche di poter attuare delle lavorazioni di miglioramento e di messa in sicurezza di alcuni tratti del ponte che erano molto importanti da svolgere. Quindi c'è stato un dibattito direi pacato, ovviamente qualcuno ha manifestato la propria esasperazione, la propria contrarietà ma tutto sommato una serata molto molto positiva a dimostrazione del fatto che il confronto, il dialogo sono sempre la strada preferibile per affrontare le questioni e anche quelle più complesse. Città Metropolitana che ricordiamo è proprietaria del tratto del ponte dell'Orco, ci sono stati dei ritardi ovviamente non preventivati dovuti a quanto si è trovato nel momento in cui si è andato a scavare? Sì esattamente, già nel progetto c'era tutta una parte riguardante i sottoservizi e quindi i cavi di Enel, di Telecom, di Italgas, di Smate che dovevano essere spostati e sistemati. Sapevamo che queste lavorazioni che non dipendono direttamente dalla città metropolitana ma dipendono dagli enti proprietari dei sottoservizi avrebbero potuto rallentare un pochettino l'iter delle lavorazioni. A questo aggiungiamo il fatto che nel periodo natalizio avevamo aperto il ponte anche con dieci giorni d'anticipo per poter consentire un traffico veicolare un po' maggiore, questo sicuramente ha causato qualche rallentamento di troppo. Ricordo anche il caro materiale perché ce lo siamo dimenticati tutti, quest'opera qui l'abbiamo messa a bando, il progetto cubava 300.000, la città metropolitana ne ha messi altri 80, l'abbiamo messa a bando con un ribasso minimo proprio perché stiamo vivendo una situazione molto complicata e mi sento di dover ringraziare oltre alla pazienza dei cittadini anche la buona volontà delle ditte, dell'Ati che è intervenuta in questo cantiere perché hanno dimostrato una grande professionalità, un grande senso di attaccamento al territorio. Sono ditte del territorio quindi non poteva essere altrimenti. Siamo qui questa sera con il sindaco di Cornia Giovanna Cresto dopo la serata che si è tenuta per parlare del ponte dell'Orco con la città metropolitana, una serata direi riuscita dove sono emerse anche perplessità critiche da parte della cittadinanza ma al quale l'amministrazione ha saputo rispondere in modo chiaro. Sì, diciamo una serata di confronto, un confronto molto aperto, devo dire anche assolutamente molto moderato in cui ovviamente sono uscite le perplessità della popolazione soprattutto degli esercenti delle attività commerciali come era ovvio nel senso che chiaramente queste lavorazioni creano disagio, creano comunque un danno anche all'economia locale. Abbiamo ribadito però sia come comune che come città metropolitana che questi lavori vanno eseguiti, sono tanti anni che li attendiamo ed è raggiunto il momento di intraprendere questo tipo di operazione. Quindi i lavori verranno portati a termine, non stiamo parlando di lavorazioni in compiute, di lavori infiniti, certo c'è stato un ritardo, questa sera ne sono state spiegate ampiamente le ragioni che mi rendo conto essere ragioni poi molto tecniche e quindi anche difficilmente comprensibili per gli addetti ai lavori, però la realtà è questa e quindi ci sono state spiegate le ragioni, ci sono state date anche delle rassicurazioni sul fatto che si cercherà in ogni modo di abbreviare i tempi di lavorazione e quindi di aprire il ponte prima del termine che ci si è dati al 29 di maggio. Quindi speriamo davvero che intorno alla metà di maggio, ancora prima, anche se sulla ancora prima sono meno fiduciosa, effettivamente si possa vedere la riapertura del ponte. Quindi una riapertura che avverrà prima, speriamo, del termine, un prolungamento dei lavori dovuto purtroppo a cose impreviste che non si potevano sapere? Sì, più che cose impreviste dovuto effettivamente all'alternarsi delle ditte che hanno dovuto rimuovere o comunque spostare i sottoservizi perché le ditte erano tante, sono ancora tante perché alcune dovranno ancora intervenire nei prossimi giorni, è stato spiegato che ci sono dei protocolli di sicurezza per cui alcune di queste ditte intervengono da sole in cantiere e quindi richiedono che il cantiere sia completamente sgombero. C'è da dire che tutte queste ditte lavorano con pochi operatori, ma perché quelli sono i protocolli ed è quello che per noi cittadini, da questo punto io metto solamente dalla parte dei cittadini, è quello che dà più fastidio, forse vedere il ponte, un ponte così grande, 90 metri, con due persone che ci lavorano. Questa sera ci è stato spiegato perché ci possono lavorare due persone, perché non si può mandare a fare un'attività del genere una squadra di 20 persone, perché la lavorazione assolutamente non lo consente. Grazie a tutti.